Mentre ad Arco si piange la chiusura del punto nascite, per quello che riguarda il reparto di Cavalese, l'assessore alla sanità Zeni prosegue la sua battaglia per la riapertura. La delegazione trentina è stata accolta ieri nel tardo pomeriggio a Roma da alcuni funzionali del Ministero della Salute ed è riuscita a strappare l'impegno per una futura revisione dei criteri da cui dipende il mantenimento in vita della struttura fiemmese. Assieme all'assessore provinciale Luca Zeni a comporre la delegazione c'erano Giovanni Zanon, presidente della comunità di Valle, Giuseppina Vanzo per il comune di Cavalese, l'onorevole Albrecht Planger, vicepresidente dell'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna e gli onorevoli trentini Franco Panizza e Lorenzo Dell'Ai. I funzionari hanno dato alla delegazione trentina elementi per sperare. È emersa dal Ministero la volontà di riaprire la possibilità di rivedere i criteri, coinvolgendo il Comitato Percorso Nascite Nazionale. Un percorso non facile e non certo breve, anche perché, ha spiegato ancora l'assessore Zeni, la palla passerà poi dai tecnici alla politica, con tutti i tempi necessari per approvare i nuovi criteri. Crediamo comunque che già questo possa essere un passo avanti importante. La speranza dell'assessore provinciale Zeni è quella di poter riottenere la deroga all'apertura del punto nascite di Cavalese, al momento ritirata dal Comitato Percorso Nascite Romano. E dall'Alto Garda stiamo alla finestra a guardare.